Il via libera alle sagre c'è ma di fatto quelle che si realizzeranno nella provincia di Padova saranno ben poche. Distanziamento sociale, il divieto di assembramenti a cui si aggiunge un altro aspetto. Spesso i volontari sono anziani e quindi più esposti al virus. Insomma la prudenza e le precauzioni battono la voglia di ricominciare con le sagre gli eventi culturali che caratterizzano l'estate del nostro territorio. Riteniamo che la maggior parte perlomeno di queste manifestazioni debbano spostarsi al 2021. Questo con grande dispiacere da parte nostra ma l'attenzione nei confronti del cittadino che partecipa a questi eventi e in particolare ai nostri operatori volontari che sono attivi in queste manifestazioni devono essere assolutamente salvaguardate. Secondo una stima dell'Unione delle Proloco del Padovano erano previsti un migliaio di eventi e di questi circa un centinaio di sagre di paese. Al momento almeno 420 hanno deciso già di rimandare tutto al prossimo anno. Gli incassi perduti ammontano a circa 30 milioni di euro. Ad essere cancellate soprattutto le sagre più grandi dove c'è il rischio maggiore di assembramenti. Quelle più importanti, quelle sulle quali invece c'è grande afflusso di persone, quelle ovviamente sono quelle maggiormente penalizzate, sicuramente penalizzate e per le quali si dovrà pensare a iniziative più piccole dedicate e sicuramente allo spostamento al 2021. Quest'estate sarà dunque una fase di transizione, un modo diverso per vivere la sagra di paese che si finanzia principalmente attraverso gli stand gastronomici. L'occasione invece dovrebbe essere quella di portare i padovani a vivere il territorio anche attraverso le presenze nei ristoranti che hanno sofferto i lunghi mesi di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria. Cercare di cogliere l'opportunità da questo momento di fermo, di stasi obbligata, di trovare forme anche di finanziamento e qui devo dire che ci sono istituti che stanno tenendo in particolare attenzione e stiamo monitorando e chiudendo anche accordi per poter fare in modo che ci siano anche risorse economiche che possono essere a tassi agevolatissimi ovviamente e dare la possibilità di avere quella liquidità per le prossime manifestazioni future. Per poter fare in modo diverso a fare in modo diverso a fare in modo diverso a fare in modo diverso. Grazie a tutti.